la chiesa di san nicolò sul retro ecco a fianco a barbara e la renza sullo sfondo con la punta tra le nuvole vediamo il toraggio e il pietra vecchia siamo sul lato nord in questa direzione abbiamo il monte saccarello questa montagna più alta che vediamo di fronte a noi è monte ceppo posto è molto panoramico siamo a bagliardo in alta valnervia ecco sotto di noi vediamo la chiesa parrocchiale costruita a fine del 1800 in sostituzione della chiesa vecchia di san nicolò che è questa che è stata distrutta dal terremoto il 23 febbraio 1887 durante la cerimonia delle ceneri queste immagini sono dell'albergo lucciola di santo stefano al mare che vi accoglie il nostro sito è www.albergolucciola.com a circa un'ora di l'automobile